Il mese di ottobre Il mese di ottobre inizia novembre per la nostra cultura, se ci guardiamo intorno vediamo i negozi pieni di crisantemi e anche i cimiteri in questi giorni dei santi e dei morti. Ma prima di arrivare a dire una parola su questo vi presento l'ospite che abbiamo oggi, è qui accanto a me un volto già conosciuto, il pastore Jean Felix della Chiesa Evangelica Metodista del nostro territorio di Verbagna e di Omenia. Lo abbiamo già intervistato altre volte, in modo particolare ogni anno per la giornata del dialogo islamo-cristiano e mentre gli diamo il benvenuto chiediamo proprio a lui di commentare perché domenica scorsa il 27 ottobre a Verbagna con le chiese cristiane e con i rappresentanti della comunità islamica abbiamo vissuto questa giornata. Allora, benvenuto prima di tutto anche a nome di Don Angelo e a nome dei nostri telespettatori. Grazie, soprattutto grazie per l'invito che mi è stato rivolto. A proposito della giornata del dialogo cristiano-islamico che abbiamo celebrato insieme domenica scorsa, perché la giornata ricorre il 27 ottobre di ogni anno, localmente è promossa dalle parrocchie cattoliche, dalla Chiesa Evangelica Metodista di Verbagna e dalla comunità islamica della zona e dalla parrocchia ortodossa rumena di Verbagna. Quindi questa giornata che abbiamo celebrato è giunta alla dodicesima edizione ed è una giornata che è nata a ridosso dell'11 settembre, sappiamo cosa è successo in quella data, e che da allora per 12 anni consecutivi si cerca di celebrare questa giornata puntualmente il 27 ottobre con varie iniziative e anche sotto il cappello dell'appello nazionale che il Comitato Promotore rivolge alle chiese, associazioni e via dicendo, che quest'anno riguardava proprio la libertà di culto in Italia e l'ugualianza tra i cittadini di uno stesso paese che è l'Italia. E quindi questa giornata è stata celebrata in due occasioni, in due momenti qui a Verbagna, prima con una conferenza sulle vicende siriane che si è svolta già il mese scorso a settembre presso l'Auditorium Santana e il 27 ottobre abbiamo avuto una serata di condivisione e di preghiera tra di noi presso la famiglia Studenti Il Chiostro. Quindi è stata, posso dire, una bella giornata, una bella testimonianza vissuta insieme e la coscienza di essere tutti implicati nel cammino del dialogo e di rispetto reciproco. Sì, credo siano importanti le tue parole, ci aiutano a guardare la vita con occhi diversi e non vedere solo quello che è motivo di cancellazione dell'altro, di odio, di violenza razziale, religiosa, omobofica, sessuale, di qualsiasi cosa, ma cogliere, diciamo, i segni positivi che vanno verso un cammino di dialogo. Poi, prima di finire questa breve intervista, ricorderemo anche un grande avvenimento che è in corso in questi giorni a Busan, ma ne parleremo dopo. Invece, dicevamo l'inizio, e sono contento di averti come ospite, oggi è il 31 ottobre e tu ci ricordi che qualche anno fa, come oggi, nel 1517, cosa succedeva? Tu dicevi anche una festa per voi delle chiese evangeliche. Sì, infatti oggi, il 31 ottobre, è una festa importante per le chiese protestanti, quindi una delle poche feste che sono celebrate nelle chiese protestanti. Infatti, fu il 31 ottobre del 1517 che il monaco agostiniano Martin Lutero affisse le sue famose 95 tesi sul portone della chiesa del castello di Wittenberg, in Germania. Tesi che erano, come è risaputo, tesi che erano eredate da lui, da lui eredate per suscitare un dialogo accademico tra universitari sul tema delle indulgenze. infatti, il fatto che le affige un giorno prima della festa di ogni santo, la dice lunga. Però, si sa che, come sono andate le cose, quel gesto segnò l'inizio della riforma protestante, quindi l'inizio della nascita delle chiese e della riforma. Sì, e tu dicevi appunto la Vigilia dei Santi, una delle visioni diverse, diciamo così, che ci sono è proprio su questa visione, il culto che qualche volta nella storia ha avuto, ce lo ricordo appunto Lutero, il commercio, le indulgenze, eccetera, eccetera, tutte cose che forse il Concilio oggi ci ha riportato a rivedere, e per questo cerchiamo di camminare col dialogo. Ma la vostra visione, per esempio, di fronte a questi giorni, al culto dei Santi, eccetera, come la possiamo riassumere in poche parole? Ecco, Lutero, rifiutando la vendita delle indulgenze, quindi rifiutando la dottrina delle opere meritorie con cui si influenza Dio ad avere, a meritarsi, per meritarsi il favore divino, Lutero invita invece a guardare piuttosto alla benevolenza divina, quindi i morti per i protestanti sono affidati alla sola grazia di Dio, e quindi non possiamo pregare per loro, non possiamo cambiare niente su quanto riguarda la loro sorte. Perché sono affidati, dici tu, alla misericordia di Dio. Alla misericordia di Dio, certamente. E quindi possiamo pregare per loro, con loro, possiamo pregare con loro, ascoltare la parola evangelica che è centrata sulla risurrezione dei moriti in Gesù Cristo, che è oggetto della speranza cristiana. Tuttavia, questo non significa che i protestanti non abbiano rispetto né trascurino le tombe dei loro cari. Io ritengo che ornare le tombe, portare i fiori, è un gesto che ha molti significati, può significare riconoscenza, può significare anche un momento di riflessione sulla morte, di raccoglimento, può significare anche, in qualche modo, l'annuncio della speranza che è testimoniata dai fiori. I fiori sono segno della gioia, della speranza, al di là della morte. In questo senso, quindi, credo che i protestanti hanno anche un grande rispetto per i loro morti. Sicuramente, e credo che sia anche bello averti dato la possibilità di chiarire quello che è stato più una visione più teologica sulla salvezza finale, su come si ottiene, se si possono, detto in un modo banale, come dire, acquistare punti e questo diventava davvero, come Lutero ricordava, qualcosa che ci allontanava. Ma tu hai accennato, appunto, la resurrezione a chi ci ascolta, chi in questi giorni, appunto, per vari motivi andrà al cimitero. Qual è una parola che noi possiamo dire sulla resurrezione, sulla speranza, sulla vita, oggi un po' faticosa per tante persone, eccetera? Come riassumere il senso del messaggio cristiano a chi ci sta ascoltando? Beh, io credo che questo, ecco, sia proprio un'occasione per riflettere sulla vita e sul perché della vita. Proprio in questi giorni leggevo un'opera importante del riformatore di Ginevra, un altro riformatore di nome Giovanni Calvino, che parla del perché della vita umana. Noi siamo creati, siamo nati, non come prodotto del caso, ma con un disegno particolare, cioè quello di vivere alla gloria di Dio, di amarlo. Ecco, quindi credo che questo sia un invito alla fede, a riflettere su come noi, su che cosa noi impostiamo la nostra vita, no? E quindi la nostra vita deve essere vissuta alla gloria di Dio. Cosa significa questo? Significa credere, significa impegnarci per vivere la gioia, condividerla con gli altri, per sentirsi il prossimo dell'altro, per essere sempre il prossimo dell'altro e quindi preoccuparsi dei bisogni degli altri, anticiparli. Credo che questo sia il modo di riconoscere sia noi che gli altri l'immagine di Dio, creature che sono fatte all'immagine e somiglianza di Dio. Senti, noi dobbiamo chiudere, puoi dire tu quello che dicevamo all'inizio, ti ringraziamo e ti lasciamo presentare proprio in due parole. dal 30 ottobre all'8 novembre è in corso a Busan, in Corea del Sud, un grande incontro delle chiese ecumenico, giusto? Sì, giustissimo. Si tratta della decima assemblea generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese che quest'anno si svolge a Busan, nella Corea del Sud. e quindi questo è un momento anche per i cristiani di testimoniare insieme il loro impegno comune per la pace, per la giustizia. Infatti, questa assemblea è stata preceduta da un treno della pace, un treno di pace che è partito da Mosca fino a Busan facendo 22 tappe e questo treno sta a perorare la causa della divisione tra le due coreie. E quindi il tema stesso dell'assemblea è proprio incentrato sulla pace. Dio della vita guidaci alla pace e alla giustizia. Quindi credo sia un momento importante per noi che qualche mese fa ci siamo trovati a pregare insieme sotto l'invito, in risposta all'invito di Papa Francesco abbiamo pregato insieme per la pace nel mondo e in particolare nell'Arsiria. Credo che questo sia un momento anche che coinvolge le nostre chiese che non devono essere indifferenti. Non si prega della pace soltanto quando c'è una guerra, quando una vicenda di guerra sale alle prime delle cronache ma sempre questo è l'impegno dei cristiani. Noi ti ringraziamo, salutiamo anche la tua comunità e ci auguriamo di essere i testimoni credibili del risorto. Io vi saluto anche a nome di Don Angelo e come sempre noi ci rivediamo con Non di Solo Pane la settimana prossima. Arrivederci. Where are we? What the hell?